Questo è assolutamente falso perché il Comune di Barletta domani approverà il rifiuto dell'aumento dell'Atari, aumento dell'Atari che è voluto dalla Regione Puglia perché è incapace di aprire discariche pubbliche dove noi potremmo conferire i nostri rifiuti a prezzi calmirati. Invece la Regione Puglia ci obbliga letteralmente a conferire i nostri rifiuti in discariche private lontane dalla nostra città con costi enormi per il trasferimento dei rifiuti e con costi enormi per entrare in queste discariche che ovviamente impongono il loro prezzo. Domani noi approveremo una delibera coraggiosa che è il rifiuto di aumentare l'Atari, una delibera coraggiosa perché la legge ci impone di aumentare l'Atari attraverso il deliberato Ager e attraverso il deliberato Arera. Aumento dell'Atari che si dovrebbe aggirare secondo l'indice di inflazione intorno al 9,6% ma tutto questo noi non lo faremo ed è inutile che forze politiche che dovrebbero starsi zitte, forze politiche che sono rappresentate dalla Regione Puglia, che ripeto ancora una volta, ancora una volta, lo ribadisco, ha la grandissima responsabilità di ammazzare i comuni pugliesi perché non è soltanto Barletta che avrebbe dovuto pagare 2 milioni circa in più ma anche Tarato 11, Bitonto, Molfetta, Lecce, tutti quanti i comuni pugliesi dovrebbero pagare di più. Noi invece questo non lo vogliamo. Tutto questo però non ci deve scoraggiare, noi dobbiamo continuare a fare la differenziata non soltanto per un motivo di natura economica ma anche per un motivo di rispetto dell'ambiente perché una città pulita è una città bella che apprezzeranno i nostri turisti.